E' nato nell'85, alla fine di Caos, eravamo a Parigi e era uscito a Parigi il film e mi ricordo che ho ritrovato un'intervista in cui sono io che parlo e dico guardate che il film doveva finire con un altro episodio, con il funerale e non funerale di Pirandello. E andammo dal produttore, andammo dal produttore Giuliani De Negri, il nostro produttore di sempre, e gli dicevo guarda così, 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 così e lui disse così, 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 così non c'è una lira per fare questo, sono finiti i soldi, quindi non si può fare, non si può fare, non si può fare, bello eh, ma non si può fare, va bene, e chiuso, basta, non se ne è mai più parlato. Ultimamente appunto mettendo a posto delle cose ho ritrovato questa intervista e ho detto però, e ho ripreso in mano il progetto cambiando tutto, si intende perché poi passa il tempo, no, per cui, e ho fatto questo film. Il primo incontro che ho avuto con Paolo, che io non conoscevo di persona, ci siamo visti in ufficio, e lui diciamo che mi ha accolto con un sorriso, proprio, ha anche un senso di protezione, l'ho sempre avvertito questo da parte sua. La frase fu, allora vuoi fare questo film con me? E quindi, e la mia risposta ovviamente fu, assolutamente, certo che sì. Lui all'inizio mi disse, eh, il tuo personaggio deve portare queste, le scenerie di Pirandello da, da Roma, da quando le andiamo a prendere al Verano, eh, in Sicilia. E quindi, eh, ci sono questi tre, quattro momenti, nell'aereo, eh, in aereo poi succedono delle cose. Diciamo che all'inizio me l'ho messa facile, ma da un certo punto di vista lavorare con, eh, maestri, eh, che hanno una così tanta esperienza, eh, nel senso, non mi è sembrato tanto difficile. Agrigento. Tutti. Mi aspettano le cene di Pirandello. Mi piace, mi piace molto Berlino, perché a Berlino siamo stati sempre belli. Fin da quando presentammo molti anni fa, eh, San Michele aveva un gallo, che è un film che non ha visto nessuno e che è forse uno dei più belli che abbiamo fatto, ecco. Beh, essere a Berlino con il film di Paolo, eh, è una gioia immensa. Eh, in realtà l'emozione, appunto, l'ho avuta quando ho visto il film e il titolo, poi ce la dedica al fratello e poi spunta il mio nome. Eh, penso che per un attore questa sia una grande gioia. Ma la gioia, la vera gioia è poi nei commenti e in quello che le persone dicono, se si sono emozionate e se ho avuto, eh, a merito no, non è quello di averli emozionati, questa è la vera gioia.